Vincenzo Feltrinelli è il nuovo questore di Chieti, nato a Foggia nel 1954 e coniugato con due figli, laureato in scienze politiche presso l'Università di Macerata e in scienze delle pubbliche amministrazioni presso l'Università di Catania, è stato docente presso il centro di addestramento della Polizia Stradale di Cesena. Uomo di grande esperienza, Feltrinelli è stato insignito di diverse onorificenze, tra le quali ricordiamo la nomina commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica, l'attestato di pubblica benemerenza conferito dal Presidente del Consiglio dei Ministri per lo svolgimento di attività connesse alla protezione civile e la croce d'oro per anzianità di servizio. Noi interverremo sicuramente con un importante capillare controllo del territorio sia nei centri urbani che fuori, fuori dai centri urbani controllando le grosse direttrici, controllando l'autostrada, controllando le strade statali e anche nei centri urbani. Inoltre, giustamente con un'adeguata investigazione preventiva, sicuramente bisogna avere anche e curare la cultura della sicurezza, soprattutto puntare su una migliore cultura della sicurezza, soprattutto fra i giovani.